Le Vertec è il numero 22 della Ush di Ladins. Il gran retrato di Pruman ed è la neve che Gardena ciappa dalla FIS i mondiali di Schi. Sottitele le informazioni per le litazioni europee dagli 8 e 9 di giugno, che va in ante la piatta di attualità con due candidati. Sulla litazioni del Parlamento europeo lenta il contributo di Massimo Girardi. E sottitele l'articolo che resona dell'Alpenregion Streffen con due Sciceras Ladins a Duhm. E questa piatta si resona anche del Ladin Day all'Università di Busan con la presentazione del Prum Smartphone con la Resonè da Ladina. Sulla piatta di Ampez viene scritta la gran radunanza dell'Unione di Ladins che è una neve secretaria. E sulla piatta di Fodon venuta fuori l'Alarm del Bakan per quel che lascia a strozzi i Patrons di Chance. Dalla Val Badia è una piatta in tria dedicata al Neftoc de Teater della Union Teater Laval che conta della storia del País. E su un'altra piatta viene scritta la gran festa per i cinquantei dell'Associazione Sportiva del Ballon de Mareo. La piatta di Fasca Severg con la radunanza dell'Associazione di Hotelieras che ha metodato Prozzec de Valuta. E con i l'urieras per fare sul nef impianto Portamonta Ciampedel. De Soziele tratta l'articolo sulla presentazione del Liber sull'Alzheimer ed eccoci a fare fronte di Cesare. E sotto te viene presenta i gruppi di lettura che è nella suite Biblioteca dei Cianacei. De una intervista a Evelyn Bortolotti, Presidenta della Commissione di Esames della DIN, ne mettono i mudamenti che vengono tanti che ciampo. A Pede Fabio Chiocchetti nella zona della Vace e Tras Fioras. La intervista di Nicoletta Ritz alla famiglia Cigolla di mia amazona Cianacei ne conta dei suoi progetti di accoglienza, etiche e ascolti. Del Pala Dolomites le sta portadanti dei nevastocchi del teatro dei Grai Laboratorias con i Becci. E del centone sottitele due retracci a confronti e un più veie da in due nere. Sulla piatta di Gherdena si resona dell'avvertura della nona edizione della Biennale. Ed è la proponetta di ristrutturazione dell'accesa di pausa Sanduric. Del sport le una intervista a LADIN che si aratta la serie B del Ballon. E il nev tornoio di Soraga. La usch si sarà su con la piatta da color per i più piccoli. Sulla usch di LADIN su ogni vendere potete trovare la nevast tutta la LADINIA. Per info e abbonamenti potete usare alla redazione di fascia del Ciasa della Monieria Senzan. Telefon 0462 764545 Mail fascia-laus.it Il suo intervista a LADINIA è online sul sito www.lausch.it Oltre la bottega del suo est e tutta la Valle.